Giorgio Galluzzo, estremo difensore dell'Ocri, allora il portiere è il giocatore che ha meno possibilità di rimediare ad un errore rispetto agli altri. In una partita sentita come un derby questo può pesare di più rispetto al solito oppure credi di no? Può pesare di più. Naturalmente perché in queste partite, sperimentalmente visto che è uno scontro di reti, i punti valgono il doppio e se il portiere sbaglia giustamente non c'è nessuno dietro di lui che può aiutarlo. Quindi gli errori peseranno il doppio. E restando sempre su questo filone, sia tu che il tuo collega siete a guardia delle porte meno battute del campionato. In una partita che potrebbe essere molto tattica, quali sono gli ingredienti che un portiere utilizza per dare sicurezza ai compagni di difesa? Naturalmente essendo un portiere under è sempre, non dico difficile, però è naturalmente meno facile dare sicurezza ai compagni di reparto. Però quando si crea in armonia con i compagni è più semplice aiutarsi tra di noi. Perché naturalmente quando si crea un reparto, quando si creano anche un certo tipo di rapporto, è sempre più semplice aiutarci. L'ultima domanda e poi ti lasciamo libero. Devi scegliere se vincere la partita con un gol al novantesimo oppure tu pari un rigore nel recupero del secondo tempo che salve il risultato, vittorio o pareggio che sia? Meglio la parata al novantesimo, però si soffre di meno il gol al novantesimo.